Nel video di oggi vi voglio parlare di un utility di Windows veramente super super utile, ma in realtà è un utility di cui un po' abbiamo già parlato, in quanto vi ho introdotto il suo concorrente diretto di terze parti, chiamato Cioccolati. Esatto, nel video di oggi vi parlo di Winget, una delle funzionalità integrate in Windows più utili di sempre. Per chi non avesse familiarità con questo ambito, Winget, esattamente come Cioccolati e Scoop, è un package manager. Quindi quello che fa è permetterci di installare singoli programmi o tanti programmi, tenerli aggiornati, disinstallarli, vedere liste e gestire dei pacchetti, tutto quanto mediante un'interfaccia con riga di comando in questo caso, mentre Cioccolati funziona da PowerShell. La parte diciamo pratica di questi package manager è la possibilità di installare sia più programmi contemporaneamente, sia di farlo senza dover andare a recuperare il tasto di download su ogni sito, cosa che spesso, soprattutto per gli utenti inesperti, porta le persone a scaricare questi programmi da zone non proprio sicure di internet, che magari non hanno niente di eccessivamente dannoso, ma insieme al programma installano qualche bloatware, come per esempio Softonic, Download e Up to Down e cose del genere. Utilizzare Winget è veramente semplicissimo, in quanto è già integrato all'interno di Windows 10 e di Windows 11, e non dobbiamo fare niente di particolare. Per utilizzarlo ci sono vari comandi, che vengono listati in questo nostro articolo, che trovate sul sito mordentech.it, in cui vi avevamo già parlato di questo programma circa due anni fa, ma adesso mi sembrava il caso di farci anche un video dedicato. Per quanto riguarda Winget, una volta aperto il command, possiamo semplicemente scrivere Winget, install e il nome del programma. Se non siamo sicuri di come si chiama il programma o il pacchetto in generale che vogliamo installare, possiamo fare semplicemente Winget, search, e poi il nome del programma che ci interessa. E Winget in questo modo ci restituirà una lista di programmi che sono correlati a quella parola. Per esempio Steam avrà alcune opzioni che possono essere categorizzate, come vedete, come tag oppure come appunto nome effettivo del programma. Noi notiamo che Steam è lì presente, quindi per installarlo ci basterà fare Winget, install, Steam. Esattamente come su Cioccolati, un po' più semplice perché effettivamente è già pronto all'interno del sistema operativo. Una cosa veramente interessante di Winget è che Cioccolati non ha è la gestione di pacchetti esterni alla propria pertinenza. Che cosa intendo? Con Cioccolati non potete gestire pacchetti installati esternamente a Cioccolati, quindi per esempio se Steam lo avete installato già dal sito ufficiale o da un altro package manager, Cioccolati non lo può gestire. Invece Winget, avendo accesso diretto, essendo direttamente di Microsoft, a tutto il sistema operativo e a tutte le cose che ci sono installate, ha una visione tridimensionale di tutti i nostri programmi e può aggiornarli anche se non sono stati installati da Winget stesso. L'unica limitazione in questo caso è che il pacchetto deve essere per forza disponibile o su Microsoft Store o su Winget. Non può gestire pacchetti che non siano stati controllati da Microsoft alla radice. Motivo anche per cui Winget ha un numero di pacchetti inferiore rispetto a Cioccolati. Sono un po' più restrittivi con i controlli. Non che Cioccolati faccia entrare qualsiasi cosa, però Microsoft è decisamente restrittiva con quali pacchetti possono essere gestiti dal suo Winget. Per quanto riguarda questa funzionalità, la cosa utile quindi è che possiamo fare Winget upgrade trattino all e Winget semplicemente farà un upgrade a tutti i programmi che può gestire come package manager installati sul nostro sistema operativo, anche quelli che appunto siano stati installati prima di mettere Winget, che in realtà è sempre stato presente, semplicemente non lo stavate usando. Con Winget come dicevo potete anche installare programmi in massa senza problemi, potete mettere più nomi di programmi consecutivamente e Winget procederà a installarli tutti. Sotto questo punto di vista è un package manager veramente super 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 interessante, soprattutto perché secondo me i comandi di Winget sono leggermente più congeniali rispetto a quelli di Cioccolati. Ma perché privarsi del meglio dei due mondi quando esiste un modo ancora più intuitivo di fare tutto? Vi presento Winget UI, che sta per User Interface. Questo è un mini programma open source che va a dare la possibilità anche a utenti meno esperti e che non vogliono passare per rega di comando o PowerShell di utilizzare package manager utili come Cioccolati, Scoop e Winget. Il programma all'installazione ci chiederà quali di questi package manager vogliamo installare e al suo interno ci permetterà di gestire tutti i pacchetti di tutti e tre i package manager. Contemporaneamente, il tutto avendo anche un'interfaccia grafica che di sicuro aiuta. Ha un sistema di ricerca interno con cui potete cercare i pacchetti semplicemente scrivendo il nome. Un po' più intuitivo e preciso rispetto a quanto possiamo fare con i package manager stessi, anche se comunque anche quelli andavano bene. Potete disinstallare i programmi dal Winget UI e poi potete anche fare un upgrade in massa di tutti i programmi che avete installati qualora abbiano una nuova versione disponibile. Winget UI secondo me è quella chicca in più, quella proprio ciliegina sulla torta che aggiunge quel sapore extra, quella estetica in più a tutto quanto il sistema dei package manager ci permette appunto di utilizzarli tutti e tre insieme senza problemi. Per chi se lo stesse chiedendo, ragazzi, Winget, Cioccolati, Scoop sono tutti e tre perfettamente sicuri. Installano pacchetti puliti e certificati. Winget al suo interno vi dà anche la possibilità di criptare effettivamente i pacchetti e quindi diciamo c'ha un layer di sicurezza in più anche rispetto a Cioccolati, il quale rimane forte delle sue funzionalità, ma secondo me Winget UI è la fase definitiva, cioè se usi Winget UI non hai bisogno di fare altro. Ti prepara automaticamente il package manager, hai il meglio dei tre mondi e i programmi sono cercabili attraverso la barra di ricerca veramente in maniera super 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 semplice. Personalmente lo trovo il metodo più intuitivo e semplice per installare tanti programmi contemporaneamente, soprattutto quando appunto preparo un nuovo PC, oppure anche per evitare tutti quei programmi che magari hanno 3-4 passaggi per installare un programma, per mandarmi al downloader e cose del genere. Invece semplicemente qui digito il nome e parte l'installazione. È molto 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 più veloce. L'unica cosa che vi consiglio di fare, soprattutto se dovete fare upgrade, è disabilitare l'UAC di Windows, cioè quell'interfaccia che compare per chiedervi l'autorizzazione perché un programma possa compiere una determinata azione. Questo potrebbe andare in conflitto con Winget e Winget UI e semplicemente potete disabilitarlo e fare più in fretta in maniera silent tutti quanti gli upgrade di programma che vi possano servire. Trovo molto 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 più veloce fare così, tanto al più vi sta chiedendo autorizzi questo programma ad aggiornare la sua cosa? Sì, autorizzi questo programma? Sì, cioè anziché stare lì a premere 30 volte se avete 30 programmi da aggiornare, insomma perché non farlo una volta sola? Molto più semplice. Tranquilli, non è niente di pericoloso, ve lo prometto. Una modalità che trovo leggermente più intuitiva su Winget e Winget UI rispetto a Cioccolati è la possibilità di esportare in massa una lista di tutti i programmi che abbiamo installati sul nostro computer. Così se dovessimo formatare a fondo il nostro computer disinstallando veramente tutto potremmo dare in passo questa lista a Winget o Winget UI in base a dove l'abbiamo creata e successivamente reinstallare tutti quanti i programmi velocemente e senza sforzo aggiunto così da essere sicuri da portare sul nuovo computer tutto quello che ci interessa. Questa penso sia una delle funzionalità più importanti di questo package manager e vi consiglio assolutamente di provarla perché semplifica di tanto la vita. Vorrei sapere che cosa ne pensate dei package manager, se li utilizzate, quali utilizzate. Ho sentito alcuni di voi che addirittura utilizzano Scoop attivamente senza Winget e Cioccolati siete veramente degli spericolati pazzeschi però capisco che la funzione bucket possa tornare interessante. Io vi lascio i link a Winget, Winget UI, Cioccolati e Scoop giù in descrizione però personalmente vi invito a utilizzare Winget UI che trovo più intuitivo e riunisce tutti e tre i programmi. Noi ci vediamo al prossimo video, voi stati su MordenTech. Salonzo! Sapevi che MordenTech non si ferma solo su YouTube? Infatti ogni giorno trovi articoli, guide e news sul nostro sito mordentech.it le migliori offerte di internet sui nostri canali Telegram, MordenGadgets e MordenHardware e infine tanti, tanti, tanti contenuti esclusivi su TikTok e Instagram. I link sono in descrizione.